Prozza, la gente che incontra in molti, con le maschere sui volti, pronti a tenderti la mano quando gli fa comodo e a tanti contro quando non gli sterti, fermi, fermi, nelle loro stazioni di controllo di capare sacco in corno, di smolla, non ti sa più nel mezzo agli occhi, anzi che sottosto non ti sei neanche accorto, non ti fai già morso, mi esaltisco, mi sono richiesta purché non esca dal mio tracciato, non sono un bel brutto, saluto o un bacio non sei bloccato in qualche tratto, meglio sta perdito, ma sarò un prolego, senza prolego tu prendi dopo un decalogo, di chi, come me, c'è già passato e l'ha imparato, gioia dopo ciò, quindi, state attento a chi ti sento, mi sai due, ciò io, mi sai zè, e questo è quanto, il proloce il campion, come la merce di sconto, c'è una sonica, musica, di classica e guarda che il tempo è la classifica, ancora secondo me, una si modifica, senza un cambiamento protica, la giusta tattica, il lavoro, lascio i sogni di cuore, per quando vada il netto mi affetto, realizzare i sogni nel cassetto, è automatica, è fine, è una predica, è pratica non può come se mi fossi messo in politica, c'è bisogno di fonici, fotografi, speaker radiofonici rapici, aggiungici, sititi, giornalisti, regisi, preparati in più, bene sversi, avvocati sono dati, il fatto è la lì che è già portato con la realtà, sa quel che fa, fa ciò che sa sto di cuore, verso l'amore, qualora, almeno questo è il mio parere vedi, secondo me, è questa una visione personale, non è banale, finché vale dalla libertà verbale, mi seguo un ideale di vita, poi non essere d'accordo, ma ne sa come nella partita secondo me, vince Vigo, mano a mezzo, secondo me, secondo me, secondo me, secondo me, secondo me il cittadino si entra da modifica, secondo me, secondo me la motificata è il tempo di cambiare musica, secondo me, mi chiedo per me, secondo te, secondo me è i costi che si è solo un urlo forte